L'ho colpito! Vai, è ancora lì! Oh no! Ce l'ha distrutto subito, lo sapevi! Sì, lì, lì! Sì! Oh cavolo, ho sbagliato! Non riesco a salire, no! Uffa! C'è una entrata secondaria? Eh, non credo! Eh, allora niente, rimango qui! Sì, sì, da lì, lì! Qui? Ah no, mi sa che è stata chiusa! Eh, è stato tutto distrutto! Eh, magari trovo una salita! Uh, vedo delle robe! Questo è apposto, cioè! A me servirebbe questo! Lo stesso fucile! Beh, gli ho fatto bene! Hai visto? Sì! Poi, boh, quello di spegnere, sì! C'era lo scudo? C'era 50 di scudo, quindi... Vabbè, piglio! Oh caccio, il granate! C'è successo? Ho buttato la granata per sbaglio! Oh cavolo! Ok! Rivolve, vabbè, fa abbastanza! Una pistola... No, no, mi tengo queste cose qui! Vai, buttiamoci! Sto pure pingate! Whee! Andiamo verso il di là! Spera che sto pingate! Ah, ok! Ormai sono partiti! Venga! Ma c'è una cesta, dai! Uh, altri rampini? Sto pingate! Eh sì! Revolver però epico! Vabbè, butterò... Ma lì non l'hanno! Fa provare! Eh no che non l'hanno! È di... Alta qualità! Eh eh eh... Non ce l'avrò mai se... Vediamo un po', cerco qualcosa in questo edificio! Cos'è questo? Fucile? La pompa raffica di quello che spara di continuo! Ma no! No, fa schifo! Sì, infatti! Colpisce solo a due centimetri di distanza, poi fa proprio schifo! E infatti non fa l'arma! Si sta chiudendo la zona! Si sa che morirai come prima! Vabbè, vabbè, allora mi fermo e fermo, Alba! Qual è sta qua? Sono delle bolle! Significa qualcosa questo? Oddio, che cavolo è? Eh! Bolle! No, spero! Sarà un segreto incredibile? Ci sarà un mostro nascosto pure lì? Si sa! Cacchia, ti immagino! Ah sì, sì! Fuggo, fuggo, fuggo! Sono dei robot, ma sono tutti amici nostri i robot! Ne ho visti due! Spera che qua c'è l'overboard! Eh! L'ho visto anch'io! Lì sopra! L'hai perso! Questo qui ha perso l'overboard e non riesce a raggiungere! Io lo frego io! Io l'ho fregato io! Come si fa? Ah! Addio, amico! Ah! Che fa il coso quello? Shift! Cioè la freccia! Lì non c'è la freccia, maiusque! Eccolo! Guarda che qua che combo! C'era un tizio che aveva l'overboard! Si è staccato e gliel'ho fregato io! Eh, ok! E' arrivato a salvarti! Vieni! Che sto cercando di recuperare la cassa! Ma no, fai con la... Oh no, mi sparano! Lui, vengo, arrivo! Mi hanno sceso! Sto arrivando! Però io ho fatto tantissimi danni! C'avevo tutto lo scudo, quello lì! Vero? Eh, non me l'aspettavo! Dov'è che è? Vediamo se riesco a ritrovarti! Dov'è che è? Dov'è che è? Dov'è che è? Sto arrivando verso di te! Eccoti lì! Eccomi! No, cambia! Ci sono tantissimi tizi qui! Ok! Uno l'ha ucciso! Forse! No, l'ha ucciso niente! Oh! 56 a 1! C'è un tizio là che cavalca un drago! Attento! Dov'è? Lì! Dai che è morto! Non muore! Ok, è morto! È eliminato! C'è uno sputo di vita! 7! È una porzione! Eh, no! Ma io ho il cecchino, scusami! Cecchina, cecchino! Però... Hai colpi del cecchino? Eh, forse! Vediamo un po', dove stanno! No! Sì, ne ho 200! Oddio, ti ho detto! Credo! No, non sono questi! No, questi sono quelli! Oh, no, non ho 30! 5! Sono no, sono quelli di quella mitra elettrice! Ecco, mi sono tornato! Ecco, lo vedo là! Guarda se stai però questo! No, eccola! L'ho beccato pure io! È uscito te, forse! Ok, va! Da dove? Quello laggiù! Eh, sì, non ho beccato! No, che bordello! Ok! Ci sparano da connessione! Sì, ma tu hai tutte armi da vicino, tranne la revolver! Eh, è vero! Eh, vabbè! Ecco, ti! Arrivo! Vado sopra di loro! Ti vado sopra! Raggiù, vedo il nemico! Ti vado sopra! Non so la revolver! Ah, no! No, mi ha cecchinato! Chi? Ictaknano! Ictaknano è pericoloso! Sì, sì! Non so già vi darci... Vieni da me! Eh, non so dove sei! Sono otterrato a caso! Un nemico, un nemico! Dove sei? Eh, qua! Cavolo! Munizioni esaurite, no! Ho finito le munizioni per rifacire la pompa! C'è uno sotto! Che tristezza! Però stiamo vincendo! Siamo in molto... Vediamo che sono la bestia! Sì, dove? Oddio, no, no, no! Dove me ne vado? No! Qua c'è tantissima roba! Vediamo se... Tipo... Boh! No, mi ha fregato tutto! Succo succoso! Vai! E tu cosa vuoi? I robot si chiamano brutto! Ah, sì? Ok, che stava facendo? Ok, ha trovato un'arma leggendaria, eh! Vedo missili che volano ovunque! Ah, tu sei la salute che costruisci! Oddio, mi spara! Eh, ti spara! Oh, sto costruendo, però, eh! Guardalo! Ci sono due persone che stanno arrivando sopra di te! Due persone sopra di te! Ecco! Oh, ho altre munizioni per il fucile a pompa! Quello che ho ucciso prima! È lì! Dai! Non muore! Ma tu come fanno alla gare? È perché... È molto meglio il mio computer! Spiegato facilmente! Oh, è morto! Eh, quanti colpi ho dovuto dare! Tu dove sei? Sei ancora qui sopra? Eccoti! Eccoti! Ho visto che facevi cose strane! Lì! Dov'è? Sopra le scale! Oddio, qua! Ah! Fa schifo sto qui! No, sì, infatti! Eh... Qui c'è tizio, se lo so di lui! Arriva! Da dietro! Eh, da davanti! Sono due! Sono due! Eh, uno l'ho ucciso! L'altro sta saltellando! Dai, avevo quasi ucciso pure l'altro! Dov'è? Ah, boh! Ah, sei anche te lì! Sto ritornando! Chiudiamo! Oh, non l'ho detto! Questo è più scarso di me pure! Ce l'ho ucciso! Ho un colpo del popo! Che bello! Io ho 40! Ti sparano! Oddio, mi sparano! Da dove? Ti penso io! Oddio, no! Io ho buildato, cioè... Ma c'è un premio solo da questo! Ok, ti ho salvato! No, il colpo del popo! Vieni qua, ce li ha questo! Forse! No, 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 non ce li do! Però c'è lo scudo! Eh, spariamocelo! Vai! Dove sei? Splash! Splash! Ok! Revolver! No, no, perfesco sto cosa qui! Guarda come stiamo vincendo! 74! Qui siamo 3 di meno! Ho una kill, capace! Ce l'ho qua! Dove? L'ho ucciso! Grande! L'ho ucciso! Stai zitto! E poi sono morto anch'io, attento! C'è qualcuno che parte! Ecco! Che cacchio! Fucile di precisione! Ci hanno scioltato malamente! Io non vedo bene! Qui! Da dietro! Da dietro! Oh! Eliminato! Un altro dizio là giù! Dove sei tu? Non lo so! Ah, ecco! Sono accanto a te! Ecco a chi lì! Ecco la gente là, lo so! No, dietro! Ah! E' qualcuno l'ho ucciso! Infante! Sì, è bello che ho uscito a uscire! E' che c'è tanto! Giù, applica! Oh, c'è un botto di gente! Ah, te lo dico! Muore quello, non muore! Ok, non ho capito come è successo! C'è uno che salta! Mamma mia! C'è uno! Ah, no, è un altro amico! Ecco la bomba, ti prego! Sì, te ne do un po', aspetta! C'è uno! Eliminato! Eh, questo... Ah, sei te! Tieni, non so come fai, l'ho aspetta! Sono quelli! Questi, come si fa? Dividi, 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 dividi! No, ti vedete tutti! Allora, te li divido io! Aspetta, ok, eh, vedete! Così, vai, fai te! I... Io intanto guardo la situazione! Questi... Dividi, ok! Là c'è un robot! Te lo dati, eh! Grazie! Guardalo! È nostro, però! Eh sì, infatti! Vedo una giù in fondo lo sniper! Sì! No! Guarda il culo! Però abbiamo vinto! Ho due kill! Io sei! Ma è anche il record! Fantastico! Il legno? Per... Prendiamo i robot! Proviamo a prendere il robot! Dov'è? Vai! Dov'è ho messo il puntino viola, buttati! Così lo guidiamo in due! Ok! Ci stiamo andando, io e te basta! Allora, perfetto! Perfetto! Ecco, i terraturi dove c'è la scia rossa! Siamo solo i due! Sì! Siamo solo noi che c'è la scia rossa! Ecco lì! Vedi che ci sono le fiamme? Sì 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 sì! Chi è che spara e chi è che... Io non l'ho mai provato, lo sai? Non lo so, io salgo! Io non l'ho mai provato! Io che faccio? Fai, stai fermo! Io mi muovo! Vai! Eh! Io... Io sparo! Vai! Salto! Allora, aspetta, eh! Metto un puntino... Vado a saltare io? No, ma tu spari, io salgo! Allora, andiamo a vedere se... Allora, è l'arma del demonio! Ma si vede, io vedo questo personaggio! Spariamo ad Alex! Può fare il salto, lo scatto! È un po' lento, però salta e ribalsa! Quindi è bellissimo! Ci può anche fare più... Ci può anche fare più... Però comunque dobbiamo cercare delle armi normali se si distrugge, quindi andiamo... Vabbè... Via! E... Ok... Ci sono... Spara ai... Ai robottini! Ah! Che ti danno? Guarda! Fugere a pompa, ok! Bene! Questo mi serve! Oh! Ci non faceva pompa lì! È tuo? No! Io ne ho avuto appeso un'altra! Faccio... Oh! Qua c'è quello spettacolare! Quello a distanza! Ok! C'è un cesto! Vabbè, io so! Non c'erano i colpi! Andiamo a vedere lì! Eh sì, ma quello è imprendibile! Come cavolo facciamo appena? Ah, guarda ci so! No, non ho preso il robot! Eh, vanno abbastanza a caso i missili! Allora, ho detto che è tutto colorato! Perché ho preso la mia skin! Perché prima non l'ho preso? Non lo so! Però ha solo 1000 BB! Eh, un po' poco! Mi sa che ce lo distruggono subito! Dopo tutto quello che ci abbiamo fatto! Aveva uno a caso! Ce lo distruggono! Allora... Sugli alberi! Eh, non gli alberi non trovo! Aspetta, faccio vedere il mio compagno! Eh! Poverino! Povero Cap de Gorgon! Dici che riusciamo a andare a fare finora? C'è uno lì! Sono due lì! Aspetta, ti fermo! Aiuto! Ecco lì! Oh cavolo! Gli sparo, eh! Gli sparo! Oh no! Salto, eh! Stai! Eh, ma sono solo! L'ho colpito! Vai! È ancora lì! Oh no! Ce l'ha distrutto subito! Lo sapevo! Oh! È esploso! Cacchio! È esploso! Siamo morti malamente! L'aspettavo più forte, eh! Dove sei? Sto ancora... Di spesso a mare! Oh, qua c'è un'arma, se vuoi! Oh, lì mi sa che c'è gente lì! Oh, sì, è vero! Devi dire proprio di sì! Eh, che cavolo! Oh, è eliminato! Sempre con sette di vita, eh! Io dicevo qua! Guarda! Ah! No, no, non ce l'ho più! Ah, mi sparano! Arrivo! Non sto da dove, però! Ancora più lì! Eccolo là! Con sette di vita gli vado addosso! Dov'è? Qui sotto! Eccolo! Ma non c'ha armi! Vai! Sì, sì, ce l'ha le armi! Ho vintato! Ce l'ha le armi! Sono in due, sono in due, sono materiali! Ma questo è bravo! Stiamo vincendo di nuovo noi! Questo è forte! Ho solo il pompa! Lì c'è tantissima roba! Vediamo se riesco ad arrivarci! Sui c'è l'arma! Guarda! Prendo il fucile e la fanteria! E ovviamente la pozione! Arrivo! Vedo un altro robot su se la vado! Vabbè! Aspetta che non so dove! Ti metto il punto! Ecco, ecco, ti ho visto! C'è uno sopra! Ah no, ok, se ne sta, no, se ne sta! Ok! Vedo l'aggiuntizio! No! No, hai mancato la zona! Guarda! Prendo uno scuro e te lo butto giù! Vediamo un po'! Un mega cecchino! Pugliano! Non lo so usare ma lo prendo lo stesso! Tanto ce ne sono due! Dove sei? Qua! Vedi, c'è pure messo il segnetto se vuoi venire! C'è un altro! Un rampino! Sì, la tempesta sta per arrivare! Fa 10 secondi! Wow, che vittoria! Fantastico! Sì, la tempesta sta per arrivare! 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 Sì, la tempesta è la tempesta!